Grazie, buonasera a tutti. È un grande piacere per me potervi dare un saluto perché uno degli elementi di felicità è vedere proprio una sala così affollata, la sala della fondazione vissuta, aperta a quella che è la città, a quella che sono le nostre comunità. Quindi vedere gente qui per me è un grande regalo. In apertura dei lavori, visto che siamo in un periodo augurale, vorrei fare anch'io il mio augurio al cantiere Friuli e mi rivolgo all'impresario del cantiere e mi auguro che questo cantiere arrivi al tetto al più presto, non solo perché noi siamo appassionati dei Likov, che è una delle cose più belle che nella tradizione friulana si possono fare, ma soprattutto perché, caro impresario, c'è la necessità di poter contare su una visione complessiva della nostra regione, una visione che vada, è anche autorevole perché guida l'università, che ci dia un indirizzo preciso verso la strada che ci conduce verso la soluzione del problema più grande che abbiamo, che è il problema sociale, che è quello della generazione di valore. Noi dobbiamo riprendere a generare valore in modo soddisfacente per riuscire ad avere quella serenità sociale che tutti si meritano, ma soprattutto la possibilità di programmare il futuro. Allora io condivido in pieno, mi piace molto, l'approccio rigorosamente scientifico che è stato dato a un tema tanto affascinante quanto delicato, che è quella dell'identità del Friuli. Chiaro è che l'identità friulana va assolutamente declinata in un contesto complessivo. E qual è il contesto complessivo? Dobbiamo prendere atto che la competizione si svolge a livello territoriale. Cioè noi dobbiamo dare competitività ai nostri territori, dobbiamo rendere i nostri territori attrattivi. Perché vi dico questo? Io entrando in sala adesso ho ricevuto, ho letto una delle tante agenzie che escono, e in questa agenzia parla il presidente della più grande banca cinese. E quel presidente dice che tutto il sistema bancario cinese si sta adoperando per riuscire a mettere a frutto la grande richiesta di credito che si sta sviluppando lungo la via della seta. Questa generazione di credito sarà soddisfatta dalle banche cinesi, che hanno già aperto filiali in tutti i paesi interessati dal percorso, perché quei paesi, secondo la visione della banca e del sistema bancario cinese, avranno bisogno di nuove infrastrutture, avranno bisogno di nuove ferrovie, avranno bisogno di e-commerce trasfrontalieri. Sono investimenti che hanno già iniziato a fare nei primi dieci mesi di questo anno qui, del 2017. In dieci mesi sapete quando hanno investito l'oro? Quasi 11 miliardi e mezzo. Ma sapete qual è la stima del fabbisogno solo infrastrutturale dei paesi posti lungo la via della seta? 10 mila miliardi di dollari. Allora a questo punto noi diciamo, beh, in quanti anni? In cinque anni, in cinque anni, 10 mila miliardi di dollari. Allora perché dico che ci vuole una corretta declinazione di quella che è l'identità friulana, affinché l'identità friulana sia motivo di competitività e di attrattività del nostro paese? Perché i tempi sono quelli. Il mondo è ormai un gran premio che viaggia a velocità stratosferiche, perché noi, da friulani, non possiamo permetterci, e non ce lo meritiamo, di guardarlo dei box. Grazie e buon lavoro a tutti. Bravo, Presidente. Per aver introdotto un elemento che ha a che fare col Friuli, anche se sembra lontanissimo, che è la Cina. Perché dove finisce la via della seta? Dove finisce? Finisce in un porto del quale è difficile parlare in Friuli, anche se è il porto col quale molte delle nostre imprese lavorano, tanto da considerarsi retroporto di quel porto, che sta in una città che per molti di noi è innominabile. Quindi se siamo ridotti ancora a questo, è un po' difficile aprirsi al mondo. Finiamo per guardarci un po' troppo l'ombelico. E qui l'assiste facile per il magnifico rettore della nostra bella università. Prego. Allora, ben trovati a tutti. Grazie dell'ospitalità e con la Fondazione Friuli, con cui abbiamo di fatto una partnership da molti anni. Io credo che per stare nella metafora del Gran Premio abbiamo bisogno di piloti, abbiamo bisogno di meccanici, abbiamo bisogno di investitori, e quindi abbiamo bisogno di tante cose. Il Cantiere Friuli in effetti è il tentativo di creare un contesto di confronto su varie tematiche. Quella di oggi è una delle più delicate, è il tema istituzionale, che è collegato appunto al tema del rapporto, diciamo, anche con l'area giuliana. Però voglio dire che le università hanno fatto la loro parte, abbiamo creato una federazione, siamo stati in Cina ad esempio recentemente, e siamo andati, hanno un metro di tre gli Atenei, quindi noi ci stiamo già muovendo in ambito internazionale come un sistema regionale. Io credo che, per entrare nel tema dell'autonomia, vi dico solo questo. Nelle organizzazioni industriali, che sono quelle che io studio, il tema dell'autonomia delle singole unit o anche dei singoli lavoratori è un tema fondamentale. Anzi, la rivoluzione della Toyota, il famoso Toyota Production System, è basata sull'autoattivazione, ovvero sull'autonomia dei lavoratori. Però c'è un di più, ed è il tema della cooperazione, cioè a livello industriale puntano sull'autonomia, ma puntano anche sulla cooperazione tra autonomie. E quindi, secondo me, il tema è come puntare sull'autonomia come strumento fondamentale per migliorare le prestazioni, in questo caso territoriali, e come creare le condizioni, appunto, e qui l'assist del porto di Trieste è fondamentale, per fare di questa autonomia dei punti di forza e non dei punti, diciamo, di possibile chiusura. E pertanto, buon lavoro a tutti, grazie di essere qui. Visto che questo è un cantiere che parla di Friuli, ma che guarda anche il resto della regione. Voi avete tentato, come università, però, anche con Trieste, con la Sissa, di federarvi in qualche modo in una sorta di fondazione per riuscire a lavorare meglio, dico così, semplifico un po'. La Giunta regionale si è espressa contro questo progetto, ho capito male. E perché, allora, se parliamo di sistema, questa cosa non va bene dal punto di vista lato regione? Allora, noi come percorso siamo partiti ormai da cinque anni sulla base di fatto di protocolli di intesa. Abbiamo fatto molte attività insieme, ma abbiamo ormai una ventina di corsi di laurea interateneo e abbiamo anche delle azioni importanti che sono quelle sulla ricerca, che sono il supercalcolo, la mecatronica e adesso la biomedicina. Proprio sulla base di questo percorso, che è molto robusto, c'è l'ipotesi di strutturare dentro una fondazione queste relazioni. Vi ricordo che, ad esempio, gli ITS hanno delle fondazioni dove mettono insieme il tema delle imprese, il tema di dati, eccetera. La legge c'è, ed è una legge ormai di dieci anni fa. Abbiamo delle 60 università pubbliche, ne abbiamo quasi più della metà che hanno le fondazioni. Noi il tema l'abbiamo posto anche in regione, come abbiamo avvisati di un percorso. Loro hanno suggerito che siccome siamo in fine di legislatura ed è meglio evitare che diventi un momento di dibattito politico e rischiamo di far entrare il tentacano che è meglio che la discuteremo con la prossima giunta. Quindi noi stiamo facendo un percorso di studio, di riflessione. Abbiamo un gruppo che sta lavorando, abbiamo già fatto degli incontri e lo faremo con il confronto pubblico perché il tema istituzionale è un tema che interessa a tutti. Quindi nei tempi, nei modi e quindi gli assessori li avevamo già incontrati in un incontro con i tre rettori dove li abbiamo informati che siamo partiti. Va bene, grazie. Grazie al rettore. Professoressa Dorlando, io direi di darci là così poi cominciamo con le nostre relazioni. Prego. Io cercherò di essere molto breve anche perché in realtà le introduzioni che sono state fatte sinora toccano tutte molto da vicino quella che è un po' la missione di Cantiere Friuli nell'ambito della quale contestualizzo subito quella che è la missione in particolare della nostra officina, l'Officina Autonomia e Istituzioni. Quest'officina si pone come obiettivo quello di ripensare a nuovi assetti istituzionali ed amministrativi che riguardano l'area friulana ma per forza di cose non possono prescindere da una valutazione complessiva del sistema regione a fronte di uno scenario che come sappiamo da un lato vede l'eliminazione del livello di governo provinciale e dall'altro l'organizzazione del tessuto comunale in forme collaborative che sono le unioni territoriali intercomunali. E questo nuovo scenario pone delle sfide delle sfide che riguardano ovviamente la necessità di creare dei modelli che non si riducano solamente a mere strutture burocratico-amministrative e dall'altro la sfida è di cercare di mantenere e di tutelare quelle che sono le peculiarità dei singoli contesti e dei singoli territori. Tenendo presente sullo sfondo ma poi forse neanche tanto sullo sfondo che la disciplina dell'ordinamento degli enti locali come ricordava anche il Presidente Jacopo è un tratto qualificante della nostra autonomia speciale perché disciplinare il sistema degli enti locali in modo autonomo significa avere la capacità di pensare ad un assetto istituzionale che rispecchi l'idea di comunità in cui noi ci riconosciamo e che quindi sia in qualche modo la proiezione di quest'idea di comunità e quindi di identità in cui noi ci riconosciamo. E l'idea di comunità e l'idea di identità in realtà tragano origine da molteplici fattori e qui vengo al tema specifico di questa serie di iniziative che abbiamo ideato come officina di cui questa di oggi è la prima e parto da un dato da un dato incontrovertibile direi e che tutte le regioni italiane sono tra loro profondamente diverse e queste differenze si colgono sia nel momento della genesi storica delle singole realtà regionali ma si colgono anche nel loro divenire divenire che dipende in parte da come le classi politiche hanno saputo interpretare il loro protagonismo all'interno delle istituzioni ma che dipendono anche in buona parte da come si è evoluta la sensibilità collettiva rispetto a un'idea di comunità e di identità regionale anzi direi che se volessimo graduare in qualche modo queste due componenti cioè ruolo della classe politica e sensibilità rispetto a un concetto comune di comunità e di identità direi che sicuramente quest'ultima è l'elemento di rimente perché la autopercezione consapevole della propria identità delle proprie peculiarità è l'elemento è l'unico elemento direi che può innervare in modo serio in modo solido un sistema istituzionale che sia in grado poi di elaborare una visione e quindi poi più in concreto delle politiche pubbliche che corrispondano alle peculiari esigenze di quel dato contesto di quella data comunità e di quel dato territorio quindi solo a questo punto noi possiamo legittimamente discorrere di assetti regionali differenziati e questo non è secondario in un periodo in cui la sussistenza delle autonomie speciali come ben sappiamo è messa a forte critica e solamente in questo momento noi possiamo allora legittimamente discorrere di autonomia come strumento che può servire legittimamente per trovare soluzioni differenziate per contesti differenziati quindi detto in altre parole laddove in sintesi le istituzioni rappresentino identità collettive mature e solide che esprimano un'esigenza chiara di differenziazione l'autonomia diventa costituzionalmente legittima laddove invece questo non si verifica allora l'autonomia diventa più che altro uno strumento di rivendicazione meramente funzionale alla dialettica politico-partitica come purtroppo spesso è avvenuto nel corso della nostra storia repubblicana in alcune parti del paese con questo contribuendo ed è questo il danno a svilire la stessa portata del principio autonomistico che ricordo è comunque un principio costituzionalmente sancito dall'articolo 5 della nostra Costituzione da questa brevissima premessa allora probabilmente avrete compreso come il lavoro della nostra officina che è composta prevalentemente anche se non esclusivamente da giuristi perché si pone per l'appunto l'obiettivo di pensare a un riassetto amministrativo istituzionale non possa iniziare nessun tipo di ragionamento giuridico se non per così dire riavvolgendo il nastro e cioè cominciando a reinterrogarsi dalla base di tutto cioè da quella matrice che come dicevo prima è l'unica precondizione dalla quale legittima trae origine legittimamente un'idea di differenziazione e quindi di autonomia ad essa funzionale e allora qual è stato il modus operandi che abbiamo scelto di fronte a un tema così delicato innanzitutto abbiamo avvertito la necessità di coinvolgere in questa nostra riflessione colleghi che hanno avuto modo di confrontarsi con esso da prospettive scientifiche diverse dalla nostra e come abbiamo fatto in buona sostanza a selezionare queste discipline beh da giuristi abbiamo fatto riferimento ad una fonte normativa che per noi è di particolare importanza ed è l'unica fonte normativa tra l'altro di epoca pre-repubblicana che ci dice in concreto cioè declina concretamente quali sono state le ragioni che in sede costituente hanno condotto al riconoscimento di un'autonomia speciale ad alcune parti del paese e faccio riferimento in particolare a quel decreto legislativo luogo tenenziale del 1945 che ha istituito l'ordinamento autonomo della Valle d'Aosta e che fa riferimento più specificamente a quelle condizioni del tutto particolari geografico-territoriali geopolitiche storiche antropologico-culturali etnico-linguistiche economiche e di sviluppo quindi andando un po' a razionalizzare questo elenco abbiamo deciso che il primo incontro di oggi si baserà sul confronto tra tre discipline fondamentali pesanti per definire il concetto di identità che sono la storia la geografia la lingua e la cultura ci sarà poi un secondo seminario in cui si confronteranno altre discipline che saranno l'economia che più volte è stata già citata da chi mi ha preceduto che saranno l'antropologia e che saranno ovviamente il diritto però il diritto diciamo in ultima posizione paradossalmente lo dico da giurista proprio perché il nostro output se vogliamo pensare a degli assetti istituzionali che poi siano in grado di interpretare realmente le esigenze di un contesto e quindi di favorirne uno sviluppo strategico non potrà che basarsi sull'apporto delle altre discipline io qui mi fermerei e ringrazio ancora tutti i colleghi e i gentili ospiti che hanno voluto condividere questa iniziativa grazie le dirò che un paio di domande mi sarebbero venute per la testa ma insomma non abbiamo tempo e poi insomma abbiamo relatori che debbono ancora svolgere i loro interventi per cui andiamo via un po' veloce per rimanere sui tempi però una cosa gliela devo dire io questa cosa che le autonomie speciali oggi siano più sotto attacco rispetto al passato la reputo non vera anche perché lo Stato centrale è in questo momento una condizione di grande vulnerabilità e di grande instabilità che non gli permette di andare forse come vorrebbe a fondo della questione delle autonomie quindi mi sento di dire una parola di rassicurazione nei confronti di quanti dicono sempre che lo statuto è sotto attacco magari lo è finanziariamente ma sotto il profilo dell'assetto istituzionale mi pare che non ci sia non ci sia il tema lo dico perché è una questione che mi viene riproposta spesso nei dibattiti allora c'è una scaletta rigidissima con una serie di temi già stabiliti dalla professoressa d'Orlando quindi io mi attengo a quella cominciamo con la storia e do subito la parola professor Cesare Scalon abbiamo detto di rimanere professore in un quarto d'ora circa intervento se ce la facciamo altrimenti io sarò qui con il mio cronometro mi ha chiesto un intervento per spiegare come si sia costruita nel corso del tempo questa identità storica del Friuli gli argomenti portati a sostegno di un'identità del Friuli sono sostanzialmente due da una parte la lingua dall'altra una memoria storica condivisa è importante ricordare che si tratta di due piani formalmente diversi che coincidono solo parzialmente il fatto di non tenere conto ad un tempo per la corretta impostazione del problema della distinzione e della complementarietà di questi due elementi lingua e storia può portare ad equivoci e malintesi come quando parlando di una lingua parlata in contemporanea nel Friuli patriarcale e nella contea di Gorizia si dà per scontato che la storia di Gorizia sia semplicemente friulana oppure partendo da una storia comune del Friuli patriarcale non si tiene adeguatamente conto di aree linguistiche diverse fatta questa premessa intendo soffermarmi sulla memoria storica evocata dalla parola Friuli fu per primo Paolo Diacono cividalesi di nascita a parlare di una foro iuliana provincia in riferimento al ducato Longobardo che faceva capo a Cividale erano state l'invasione Longobarda e le vicende traumatiche della chiesa aquileiese agli inizi del settimo secolo a rompere definitivamente l'unità dell'antica provincia romana e a creare le condizioni per la nascita del Friuli l'elezione di un patriarca aquileiese in contrapposizione al patriarca di grado agli inizi del settimo secolo ebbe come inevitabile conseguenza l'adeguamento delle istituzioni ecclesiastiche alla divisione territoriale tra bizantini e longobardi e il rafforzamento dell'autonomia del ducato friulano con la fine del regno longobardo e il passaggio alla dominazione franca il Friuli si trovò a svolgere un ruolo strategico all'estremità sudorientale del regno sul piano dell'amministrazione civile Carlo aveva nominato quale conte marchese del Friuli e Berardo un esponente dell'alta nobiltà di corte sul piano ecclesiastico la nomina di Paolino di Aquileia uno dei protagonisti della vita religiosa e culturale del regno longobardo rispondeva ugualmente all'esigenza di assicurare alla monarchia l'alleanza del patriarcato nella eminente campagna contro avari e slavi che non erano ancora cristianizzati per quanto fossero eminenti i personaggi succedutesi a capo della contea nessuno di loro sembra aver stabilito un radicamento forte nel territorio alla mancata realizzazione di una potenza dinastica in ambito regionale corrispose sul piano politico istituzionale il progressivo affermarsi della chiesa di Aquileia il potere dei patriarchi sacrebbe a partire dal già nominato Paolino ma fu soprattutto l'avvento della dinastia sassone a dare nuovo impulso al ruolo politico e militare dei patriarchi Popone era stato familiare di imperatori come Enrico II di Sassonia Corrado il Salico ed Enrico III di Franconia dai quali ottenne ampie immunità e il diritto di coniare moneta il successore Sigeardo che prima di essere nominato alla sede di Aquileia aveva svolto la funzione di cancelliere patriarcale portò a compimento il processo di costituzione dello stato patriarcale stato tra virgolette il principato ecclesiastico patriarcale l'imperatore Enrico IV subito dopo Canossa compensò l'imperatore Sigeardo donandogli la contea del Friuli con tutti i diritti e privilegi connessi e un'autorità di tipo giudiziario militare fiscale anche sugli altri proprietari del terrieri del Friuli questa donazione costituisce l'atto fondativo di un principato ecclesiastico che nel corso di quasi 350 anni di vita avrebbe maturato una sua particolare autonomia dal punto di vista istituzionale uno degli aspetti che connotano il Friuli di questi anni di questi secoli scusate è il Parlamento della Patria del Friuli le cui prime testimonianze risalgono al 1228 la Costituzione del Friuli in salda unità territoriale scrive per Silberio Leicht trova la sua espressione nelle istituzioni parlamentari che danno un interesse così particolare alla sua storia il Parlamento sorge in Friuli come nelle Marche in Piemonte in Sicilia e molte altre regioni francesi e tedesche dovunque poterano costituirsi dei vasti territori dipendenti da un principe se non che l'assemblea friulana ha poteri ancora più estesi da altri parlamenti provinciali si incontrano in esse le antichissime riunioni provinciali giudiziarie militari e per la tutela della pace pubblica e per le norme relative a cui dignitari della contea prendevano parte dall'età più remota perciò il Parlamento è il principale maggiore tribunale d'appello e l'assemblea legislativa vi si tratta di pace e di guerra ed un po' alla volta diviene anche supremo tribunale amministrativo dal Parlamento riunito a Sacile nel 1366 uscirono le costituzioni della patria del Friuli una fonte del diritto consuetudinario che continuò ad essere usata lungo tutta l'età veneziana allo stato veneziano posero fine le truppe venete nel 1426 giugno quando entrarono a Udine lasciamo stare le cause le motivazioni di questa fine dello stato patriarcale ricordo solo che posero fine alla parola patria che aveva patria del Friuli che aveva assunto dei connotati ben precisi quando i giuristi cancellieri usano questa parola patria del Friuli hanno un riferimento molto ben preciso al decretum di Graziano al corpus iuris giustinianeo cioè non è una parola di retaggio romantico la parola patria ma una parola che ha un significato giuridico molto preciso con la conquista veneziana si apriva per il Friuli una nuova epoca che sarebbe durata fino alla caduta della Repubblica nel 1797 la storiografia contemporanea ha espresso su questo periodo valutazioni contrastanti che vanno dalle posizioni filo veneziane di Pier Silverio Light Carlo Guido Mor Giuseppe Francescato e altri ai giudizi critici talvolta privi di sfumature di Giuseppe Marchetti e Pietro Londero per Amelio Tagliaferri che si colloca nella scia del Light accanto ai molti demeriti Venezia potè attribuirsi il merito di aver perlomeno preservato al Friuli la sua individualità etnica e culturale possiamo aggiungere anche amministrativa c'è da aggiungere che l'occupazione veneziana dello Stato patriarcale non aveva compromesso né la giurisdizione ecclesiastica del patriarcato di Aquileia che durò fino al 1751 né l'autonomia della politica della contea di Corizia che estendeva la sua giurisdizione secolare sul Friuli orientale merito merito principale della storiografia friulana ottocentesca fu soprattutto quello di aver salvato dalla dispersione e riordinato una massa notevole di documenti che sarebbero serviti agli storici del secolo successivo per tracciare un profilo ampio e articolato della storia del Friuli e fu proprio nel secolo XIX che andò maturando la coscienza storiografica dell'identità storico territoriale e culturale friulana indipendentemente dai giudizi delle singole tesi le coordinate storiche e geografiche furono per tutti quelle della patria friulana alla quale sia gli studiosi di orientamento filoasburgico sia quelli di orientamento nazionale filoitaliano i liberali riconobbero una sua specifica identità due soli esempi il 16 gennaio 1853 presentando all'accademia delle scienze di Vienna una sua relazione sul Friuli über Friaul seine Geschichte Sprache Altertümer quindi storia lingua e antichità Karl von Zernig lamentava la poca attenzione che la scienza storica e glottologica del tempo almeno nel contesto dell'impero riservava alla vicenda plurisecolare del Friuli fu lui a chiedere all'accademia di Vienna tra l'altro il sostegno finanziario per il dizionario di Jacopo Pirona il dizionario friulano di lingua e ad appoggiare l'ambizioso progetto di scrivere la storia di Aquileia e quella dell'intero Friuli sul fronte opposto Pacifico Valussi uno dei protagonisti del risorgimento italiano dedicò al Friuli un volume pubblicato a Milano nel 1865 dove era esule il Friuli studi e reminiscenze la lotta politica per l'unità del Friuli dal Divenza al Timavo era certamente finalizzata anche per il Valussi al conseguimento dell'unità nazionale ciò tuttavia non rendeva meno convinta la richiesta che il Friuli partecipasse a questo processo con piena dignità e nel pieno riconoscimento della sua specifica identità che significa due punti la storia stessa la quale ci parla di Ducato Marca Patercato Patria del Friuli mostra evidentemente che l'unità politica di questa italica provincia aveva contribuito sempre a costituirne la individualità politica il ventesimo secolo ha prodotto grazie un'infinità di studi e alcune importanti visioni di sintesi che vanno dalla storia del Friuli di Light Paschini Menis Magnaco alla quintri storie del Friuli di Pre-Joseph Marchette Precheco Placerean e la storia del Popo Furlan di Pietro Londero dalla storia lingua e società di Francescato Salimbeni ai contributi di Paolo Cammarosano Giuseppe Trebbi Luciana Morassi apparsi nella collana di storia della società friulana si tratta di ricostruzioni di spessore diverso che allargano e approfondiscono i punti di vista talora in polemica tra loro per tutti rimane comunque il riferimento al mito di Aquileia e alla vicenda del patriarcato la storia che essi ricostruiscono ha sempre come protagonista il Friuli una regione per usare le parole di Francescato e Salimbeni intesa come comprensorio geografico e culturale costruitosi nel tempo attraverso alterne vicende se qualcuno avesse dei dubbi avesse dei dubbi sulla consistenza di un filone identitario che percorre in profondità tutta la storia del Friuli fino ai nostri giorni può riprendere in mano l'articolo 26 della legge 546 del 77 che istituisce l'università di Udine affidandole tra l'altro il compito di contribuire al progresso civile sociale e alla rinascita economica del Friuli e di diventare organico strumento di sviluppo e rinnovamento dei filoni originali della cultura della lingua delle tradizioni e della storia del Friuli queste brevi riflessioni presentate nel corso di un seminario che ha per tema l'identità autorizzano a sollevare almeno due questioni la prima riguarda la stessa università che ha promosso l'incontro di oggi io resto convinto che l'apporto dato fino ad ora dall'Ateneo Udinese nel campo della cultura della lingua delle tradizioni e della storia del Friuli presenti un saldo positivo si tratta ora di stabilire quale programma e quali risorse l'università intenda impegnare per sviluppare questi filoni di ricerca la seconda questione esposta in termini sufficientemente chiari da Gianfranco Ellero nella prefazione a quel bellissimo volume sulla patria del Friuli era il catalogo di una mostra di alcuni anni fa rinvia direttamente ai politici per chiedere se il problema sia degno di considerazione almeno sotto il profilo amministrativo scrive Ellero partendo dal presente per allungare lo sguardo sul passato possiamo osservare non senza stupore che nonostante l'indubitabile esistenza storica e la straordinaria durata della patria del Friuli oggi non esiste alcun ente territoriale definibile con la parola Friuli correntemente usata dagli storici dai geografi dai politici dai giornalisti dalla gente comune con margini talora larghi di approssimazione e di incertezza se i discorsi di oggi non sono puramente accademici dal punto di vista storico ma intendono avviare un dibattito potremmo riprendere anche questo argomento grazie andiamo al professor Pascolini e continuiamo col figlio ideale di questa di questa conversazione scusi però una cosa gliela devo chiedere lei non si è espresso sul giudizio del periodo veneziano ha citato le due scuole di pensiero ma non ho capito qual è il suo però rispetto alla dominazione veneziana proprio in una battuta scusi che mi accendo qua in una battuta veloce sia gentile ma io sono profondamente convinto che Venezia abbia dato un grande contributo sia stato un arricchimento per i triuli e anche dal punto di vista linguistico è proprio sotto la dominazione veneziana che questi studi vengono in qualche modo sviluppati gli studi sulla lingua va bene grazie scusi professor Pasqualini l'ho interrotta prego il mio il mio contributo sarà un po' diverso nel senso che non intendo qui ripercorrere quelli che sono i tratti salienti della geografia del friuli anche se qualche accenno ne farò ma voglio porre il problema di come oggi la disciplina la geografia una disciplina che sta pian piano scomparendo non solo dalle scuole ma anche dalla consapevolezza generale può dare ad un dibattito così importante come quello sull'identità del friuli allora parto dicendo inizialmente che la geografia ha fatto grandi danni a volte irreparabili quando si è occupata in chiave geopolitica di dare uno spazio fisico e di disegnarlo su carte mappe a dei popoli che pretendevano o avevano o si sentivano di avere una propria identità tale da fare proprio un territorio un geografo recentemente scomparso Massimo Quaini ha scritto un bellissimo libro che si chiama La geografia aiuta a fare la guerra e credo che in questo senso la riflessione sia utile perché anche fatti a noi molto recenti molto vicini penso al disfacimento della ex Jugoslavia penso al concetto di pulizia etnica che ha voluto disegnare definendo dei confini territoriali ben precisi assegnandoli ad un popolo ma se torniamo indietro l'antropogiografia tedesca in qualche maniera ha contribuito a definire quel concetto anche qui molto strano a cui i geografi hanno contribuito quello dello spazio vitale ad esempio legando poi a dei confini fisici che erano facilmente tracciabili sulle carte le mappe che sono gli strumenti un po' di lavoro dei geografi a definire quindi dei limiti che poi diventavano limiti insuperabili o diventavano limiti che potevano essere superati se questo spazio vitale in cui un popolo si riconosceva doveva ampliarsi magari a danno di altre situazioni quindi se la geografia ha fatto questo i geografi forse hanno fatto meno danni e hanno a volte contribuito in maniera determinante a far crescere quella che Elena ha chiamato la percezione consapevole perché tutto secondo me parte fondamentalmente del ruolo dei geografi e della geografia in chiave più moderna è quella di fornire la conoscenza cioè la conoscenza di che cosa la conoscenza di quello che io chiamo lo spazio geografico e che potremmo chiamare con un termine più pregnante la consapevolezza dei luoghi e qui mi rifaccio al termine friulano luogo un furlan luogo si dice luk e luk significa casa significa abitazione ma significa spazio addirittura uno spazio che in alcuni casi si dilata a dimensione planetaria quindi la conoscenza dei luoghi è stato un contributo se in chiave storica penso alla scuola dei geografi friulani che va dai marinelli ai musoni a gortani eccetera attraverso quell'opera imponente soprattutto per l'area pedemontana e montana che è stata la guida del friuli redatta tra la fine dell'ottocento e del 1900 e gli inizi del novecento è stato un momento di grande conoscenza di grande consapevolezza forse poi i geografi si sono più occupati a volte del micro e forse una sintesi complessiva della geografia in senso classico del friuli è riconducibile forse a poche opere mi viene in testa il bel libro di una geografa francese Brigitte Prost che si è occupata ha scritto friuli regioni di incontri di scontri penso a Valussi triestino che per l'Utet ha pubblicato nella serie dei volumi grigi la geografia della regione friuli Venezia Giulia penso all'opera di Gianfranco Ellero che ripetutamente ha cercato di disegnare la geografia del friuli ecco si è occupato forse di micro e forse avendo un problema di fondo che era quello che ci si richiamava anche prima e che mi richiamo adesso dove mettere questi confini dove segno il confine del friuli se uso questo termine friuli allora una volta era più facile le carte dal cinquecento fino al rilevamento topografico del milleotto e sessanta post erano molto generali scrivevano villazzi scrivevano qui è la pianura i confini mettevano dei fiumi che erano indicativi però voglio dire quel confine è stato messo a volte il confine comprendeva se si parlava di patriarcato di aquileia non solo sapata che adesso dovremmo ridere ma pensate c'è lavoro dai geografi torna e fa sduteli che arti lavorano di sapata ma comprendeva anche il tolminotto caporetto dove poi cilidale aveva un ruolo molto importante eccetera la valle dell'isonzo e poi Napoleone quando ha redisegnato la struttura amministrativa ha pensato bene di fare quella ansa portando via quel confine così che immaginiamo dall'ivenza all'isonzo che doveva più o meno indicare questi confini geografici del Friuli del Friuli storico poi come lo definiamo allora voglio dire se andiamo sul confine orientale quel confine si è spostato e si è dilattato basta pensare agli ultimi cento anni quante volte e quindi veramente credo che il mettere confini quando si parla di questi temi e dire poi che chi abita dentro quei confini deve esprimere una forte identità o una identità omogenea crea dei problemi allora la geografia oggi ed è questo al mio interesse che contributi può dare innanzitutto cambiando e utilizzando con molta attenzione il termine identità la prossima volta ci saranno gli antropologi che sono vicini ai geografi che si occupano di queste cose qua ma a me piace usare il termine appartenenza appartenenza vuol dire il riconoscersi in qualche maniera in un luogo il riconoscersi individualmente e poi collettivamente in un luogo che esprime delle omogeneità non tanto nella struttura profonda del territorio paesaggistici o eccetera che è un mosaico ma tanto nell'approccio nel modo di vivere e soprattutto nella percezione consapevole se oggi chiedessi anche a chi è qui presente che cos'è il friuli geografico ognuno dei presenti forse tutti avrebbero una visione un po' diversa nell'immaginario e allora bisogna costruire su questo e su questo si può costruire con alcuni strumenti che sono figli un po' della nuova elaborazione dell'approccio geografico che parte da questo senso di appartenenza e di valore dei luoghi perché se io appartengo a un luogo quel luogo assume valore quel valore diventa un patrimonio e come tutti i patrimoni la comunità deve occuparsene custodirlo tutelarlo valorizzarlo trasmetterlo anche in forma ereditaria e c'è tutto un grande lavoro attraverso strumenti che si chiamano mappe di comunità che si chiamano carte dei valori e che disegnano una geografia del Friuli che va al di là della geografia classica che va dai monks fino al mar o il piccolo compendio dell'universo perché i valori delle comunità mettono insieme la storia del passato per cui c'è tutto un significato poi di emblemi di questo paesaggio che è un elemento importante dell'espressione del vestito dei luoghi penso ai gelsi che legano Venezia ma non solo tutte le innovazioni che sono state poi attraverso le trasformazioni fondiarie e così via ma segnano anche tutta una serie di piccoli elementi che costituiscono questo patrimonio che è fatto anche soprattutto di relazioni allora se lo spazio geografico inteso così è anche relazione è chiaro che io devo allargare il mio orizzonte perché i friulani avevano io sono di Cividale li va là di Snaldal di Zon avevano al confini avevano le relazioni con quelli che stavano nella valle dell'Izonzo i goriziani avevano le relazioni di là quelli di Latisana avevano le relazioni col mandato quelli della Cania con l'Austria quindi dobbiamo preoccuparci molto di relazioni ma creare il valore dei luoghi e creare una percezione consapevole vuol dire anche porsi una fondamentale questione che è anche geografica come ci poniamo con i nuovi cittadini del Friuli che è un tema bellissimo perché evidentemente hanno una percezione dello spazio una percezione dei luoghi che è diversa e vengono a prendere dei luoghi nuovi e quindi bisogna costruire queste mappe e soprattutto poi la geografia mette a disposizione un altro grande strumento che è la scala per cui io posso vedere e lavorare su dimensioni molto piccole dal quartiere alla piccola frazione mi viene non voglio citare la famosa poesia di Zanier che tutti conosciamo a scale a dimensioni più ampie e quindi il Friuli comincia a costruirsi come un mosaico come tante tessere molto ricche variegate che però riconducono tutti ad un senso di conoscenza e di appartenenza dei luoghi e questo poi la geografia potrebbe mettere partendo da queste consapevolezze da questi strumenti potrebbe mettere a disposizione anche dei supporti tecnici in quell'attività che ancora si fa e viene accusata poi la geografia o la geopolitica penso ad esempio alla costruzione dei collegi elettorali che mettono delle belle criteri di fondo geografici e poi non li rispettano o li aggiustano secondo dei casi io ho lavorato con Darko Brattina quando abbiamo fatto i primi collegi uninominali penso e qui le cito alle UT che sono state costruite tenendo forse poco conto di questo processo di riconoscimento individuale che forse avrebbe facilitato alcune aggregazioni penso alla riorganizzazione generale anche delle regioni in Italia per cui io dico la geografia se in passato ho fatto tanti disastri adesso i geografi con questi nuovi approcci possono costruire un friuli fatto da tante piccole cellule che però poi possono costituire un unico organismo che attraverso le relazioni può mettere insieme situazioni diverse questo nello spazio geografico aspetta Pascolini Pascolini però mi definisco un confine a est e a ovest dovendo oggi facciamo finta che non c'è la regione a statuto speciale non c'è lo Stato non c'è la Nazione oggi che cos'è qual è il perimetro diciamo che a nord e a sud è relativamente facile perché abbiamo il mare e le montagne perché lì in sala qualcuno diceva Puart non ha parlato del mandamento di Portogruaro io l'ho citato sì 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 però insomma in maniera marcata perché quello lì è storicamente un pezzo di friuli ora se noi andiamo lì a dire a loro che sono friulani oggi non so se riceviamo subito l'applauso insomma c'è da pensarci quindi me lo definisce un po' a destra e a sinistra forse anche a tanti friulani a dire che sono friulani oggi non riceviamo l'applauso e li sbagliano però e forse questa idea di porre assolutamente i confini può essere l'alivenza che è il confine storico ma voglio dire quelli che abitano andiamo a sentire cosa sentono quelli di Cordovado quelli di Pordenone di Zoppola quelli di Pordenone eccetera e poi se chiediamo a un fiulano che è all'estero che è tutto il mondo dell'immigrazione quali sono i suoi confini geografici per cui forse bisogna superare questa idea di un confine come un elemento assolutamente rigido e la geografia con queste cose aiuta a farlo poi se l'amministrazione deve farlo evidentemente ragiona per altri per altri allora c'è quando ero studente a Padova si discuteva molto no? perché il tema di Trieste quella volta anche adesso allora si diceva potremmo fare un bello scambio lasciamo Trieste allora è la Jugoslava e noi ci pendiamo il berdo che è il collio friulano che c'è una continuità di relazioni che avremmo superato anche la candidatura UNESCO al paesaggio che ci fa il vino buono va bene grazie grazie professor Pascolini lingua e cultura Federico Vicario prego siamo direi nel posto giusto perché proprio qui alla fondazione Friuli si è costituito quasi due anni fa il gruppo dell'associazione attenta al problema dell'identità culturale del Friuli gruppo che ha promosso l'avvio del progetto che porta per alto la medesima denominazione mi riferisco alla deputazione storia patria per il Friuli all'Accademia Udinese di Scienze e Lettere e Arti all'Accademia San Marco di Pordenone all'Università Popolare di Udine all'Istituto Pio Paschini per la storia della chiesa in Friuli oltre alla nostra società filologica friulana siamo quindi nel posto giusto per discutere la questione che mi pare tutto il vasto e polifonico programma del cantiere Friuli ha messo al centro del suo percorso e della sua riflessione questione alla quale esso vuole evidentemente dare risposta la questione friulana a me tocca stasera proporre qualche considerazione sulla parte culturale e linguistica della questione dopo aver ascoltato i punti di vista piuttosto solidi e concreti offerti dalle discipline che si occupano di storie di territorio il punto di vista della storia e della geografia parte dall'espressione e dalla misurazione di ambiti cronologici di fatti che si registrano nelle cronache di biografie che si intrecciano di confini che si mettono e che si tolgono è una prospettiva che procede con la descrizione della realtà e dell'entità del Friuli nella sua pluralità e nel suo divenire il punto di vista della cultura in generale pare fin da subito riferirsi a qualcosa di meno tangibile di più immateriale forse per la sua natura immateriale come una delle categorie che utilizziamo appunto per la catalogazione dei beni culturali dove sono sensazioni emozioni passioni impressioni e idee a combinare in qualche modo il complesso quadro dell'identità una prima riflessione terminologica un certo grado di ambiguità propone per cominciare lo stesso sostantivo identità quanto meno a prima vista la parola viene dal latino tardo identitas derivato da idem medesimo calco del greco taftotis il significato della parola riguarda l'essere identico la perfetta uguaglianza per esempio quando si parla dell'identità di due concetti o ci si riferisce ad un'identità piena e assoluta in filosofia il principio di identità o più precisamente il principio di identità e contraddizione nella tradizione scolastica asserisce l'identità di una cosa con se stessa a è a ed esclude l'identità con altro a non è non ha aristotele nella metafisica scriveva poi che dicendo che una cosa identica a se stessa la si tratta come due e tanto più se la consideriamo in due momenti successivi sia pure quanto si voglia vicini nel tempo l'auto identità delle cose sarebbe dunque garantita solo dalla totale assenza di trasformazioni e dall'assenza del flusso temporale ma questo mondo costituito da Platone non era il nostro ma il mondo delle idee in matematica ancora l'identità è l'uguaglianza valida incondizionatamente verificata cioè da qualsiasi valore o gruppi di valori delle variabili che in essa compaiono si potrebbe continuare a declinare il principio di identità per varie discipline ma ci basti dire che anche in linguistica l'identità si oppone alla contrarietà il sinonimo si oppone all'antonimo la conservazione si oppone all'innovazione cioè alla variazione anche i termini che troviamo nella stessa categoria nozionale poi ne dichiarano l'appartenenza alla sfera dell'uguaglianza della coincidenza della conformità dell'equivalenza dell'uniformità della corrispondenza ma noi ragionando sull'identità friulana vogliamo in realtà dire che ragioniamo sulla diversità friulana rispetto ad altre comunità non sulla sua identità altrimenti non avremo nulla da dire se non che tali comunità sono appunto identiche e le metteremo sempre nel mondo di Platone in definitiva un primo problema è semantico dove dobbiamo specificare che la nostra identità si riconosce almeno a due condizioni o per due sottospecie all'interno di un gruppo ma anche in opposizione ad un altro un ulteriore problema ancora è valutare quanto possano essere accettate le differenze all'interno di un gruppo del quale vogliamo definire l'identità perché se una vera identità tra due cose non può esistere andremo a parlare piuttosto di un livello di tolleranza della variazione o in qualche modo di una identità larga una seconda riflessione va fatta sulla lingua in quanto codice che permette la comunicazione lingua che viene solitamente posta al centro tra i valori forti che definiscono un'identità e non sarò certo io a dire che non è così è una riflessione che parte dall'opera del padre degli studi di glotologia in Italia il nostro grazie a Dio Isaia Ascoli il grande goriziano interpreta autentico della comparatistica ottocentesca è stato autore di notevolissimi saggi di descrizione delle varietà italoromanze galloromanze a partire da quelle che definiva Ladine quindi il friulano il ladino dolomitico e il romancio dei grigioni occupandosi anche del tergestino l'antico friulano di Trieste e del gradese della definizione del franco provenzale del ligure e di altri deletti italiani nonché autore di studi sulle lingue celtiche e semitiche non dico niente sul fatto ben noto che Ascoli ha proposto una prima descrizione scientifica del friulano limitatamente alla fonetica e non insisto sul rilievo che i suoi saggi Ladini del 1873 hanno avuto nel dibattito della romanistica tra 8 e 900 apprendo proprio la vexata questio dell'unità ladina ciò che ha contribuito in misura decisiva però a fare di Ascoli quello che è per il progresso dei nostri studi è stata la consacrazione definitiva del metodo tipologico per la descrizione e la valutazione dei fatti linguistici metodo attraverso il quale giungere anche la definizione stessa delle lingue in altre parole il riconoscimento delle identità linguistiche si tratta come si può ben comprendere di un argomento davvero delicato nell'Europa del tempo intrisa di suggestioni da tramonto di un'epoca sedotta dal romanticismo e affascinata dalle culture popolari ma anche scosse e divise da nascenti aggressivi nazionalismi un tempo nel quale lingua era sinonimo di rivendicazioni etniche e territoriali qual è quindi il cuore del metodo tipologico di Ascoli Ascoli parla definendo ladino ma lo stesso vale per qualsiasi altra varietà di contemporanea presenza e di particolare combinazione di tratti linguistici questi sono i cardini alla fine dell'identità tipologica cioè linguistica essa si misura fotografando una varietà in un determinato momento del suo sviluppo sottolineato dalla presenza di elementi in un dato tempo la contemporaneità ma ancor più dalla particolare combinazione di questi elementi il comparatista il glottologo il tipologo parte dalla osservazione accurata e diretta del fenomeno linguistico nelle sue molteplici manifestazioni valuta quello che è il suo sviluppo diacronico isola i tratti di conservazione e di innovazione nel passaggio da una fase linguistica ad un'altra ricostruisce rapporti genealogici tra le lingue quindi i loro legami nel tempo elabora le legge fonetiche generali che descrivono il cambiamento linguistico cambiamento linguistico che assurge da archetipo stesso della natura delle lingue le lingue sono cambiamento sono variazione non sono modelli grammaticali ideali e immutabili la particolare combinazione di tratti di conservazione e di innovazione è ciò che definisce la diversità delle lingue romanze figlie del latino ma non vi sono tratti esclusivi di questa o di quella lingua non è una palatalizzazione un'assimilazione una ditongazione un'alenizione un plurale vocalico un plurale sigmatico a determinare l'identità di una lingua cioè la possibilità di distinguerla dalle altre ma la particolare combinazione di tutti questi tratti questo ci dice la tipologia linguistica il metodo della particolare combinazione piuttosto che del carattere esclusivo di un determinato tratto pare essere a me anche il fondamento dell'identità in generale sia purezza di un popolo di una società o piuttosto di un singolo individuo noi stessi non presentiamo caratteri esclusivi rispetto al nostro vicino evidentemente ma presentiamo caratteri in parte comuni e in parte diversi occhi azzurri o nocciola tondi o amanderla capelli castani o biondi tanti o pochi spalle larghe o strette gambe lunghe o corte magrezza o robustezza carnagione più chiara o più olivastra labbre carnose o sottili e possiamo continuare possiamo continuare perché estremamente numerosi sono i caratteri che ci consentono di descrivere la realtà maggiore la precisione della nostra osservazione maggiore sarà anche il numero di elementi che riusciamo a distinguere nella particolare combinazione di questi elementi troviamo alla fine l'identità di un certo individuo di una società di un popolo mettere a fuoco questo aspetto del problema è già un primo passo un buon primo passo vuol dire chiarire una preliminare questione di metodo anche nella definizione dell'identità friulana come di quella di qualsiasi altro gruppo e sempre nella sua doppia declinazione di identità all'interno del gruppo stesso in opposizione a quanto si trova al suo esterno non possiamo andare alla ricerca di elementi esclusivi ma piuttosto di un impasto esclusivo quello sì di elementi che sono universalmente diffusi non ci basta insomma ricorrere al salt onest lavorador paradigma un po' frusto della friulanità tradizionale ma dobbiamo quantomeno porre un'opposizione rispetto alle comunità con termini comunità che possono condividere un certo numero di tratti con quella friulana ma che presentano anche una serie di differenze che ci consentono di operare una distinzione tra le stesse la letteratura sull'identità friulana e qui verremo al secondo passo non manca di indicare alcuni caratteri specifici di tale identità nel volume identità friulana così è e così l'hanno prodotta i miti parroci l'elite locali pubblicato da Paolo Roseano nel 1999 con l'istituto di sociologia internazionale di Gorizia in una collana peraltro che offre davvero molti titoli di notevole interesse si offrono interviste ad alcuni protagonisti della vita civile e culturale del tempo tra i quali Monsignor Alfredo Battisti Pretoni Belline Gianfranco Daronco Carlos Gorlon Bruno Tellia Demetrio Volcic è una ricca rassegna di temi declinati per la definizione della stessa la lingua il valore della famiglia e del fogolar il sentimento religioso una visione del mondo disincantata l'attaccamento alla terra la tradizione della musica popolare l'operosità due tendenze contrarie come il Fernweh il desiderio di lontano che si esprime anche nella tradizione migratoria e il Heimweh il desiderio di casa la diffidenza verso l'autorità ed altre ancora ampio spazio dedicato nel volume al rapporto tra etnicità e religione sottolineando l'attività pastorale del clero friulano e passando poi a simboli come Aquileia romana e cristiana la questione dei confini ancora la lingua la posizione del friuli nel contesto europeo tutti questi sono direi elementi che possono concorrere a presentare il tema dell'identità culturale del friuli naturalmente anche le persone oltre alle idee e ai fatti sociali sono parte dell'identità e quindi anche a loro va assegnata la giusta attenzione mi riferisco naturalmente ai friulani e all'ustri ma abbiamo il nuovo Lirutti e quindi per questo il nostro l'abbiamo fatto centra il tema che qui discutiamo anche il volume di Raimondo Strassoldo lingua identità autonomia ricerche e riflessioni sociologiche sulla questione friulana pubblicato da Ribis nel 96 una raccolta di saggi su vari aspetti culturali e geopolitici della friulanità tra riconoscimento distinguo e negazione tra questi saggi segnalerei il ben noto lavoro un'indagine sociolinguistica in friuli lavoro ormai storico che se consideriamo la data nella quale la ricerca è stata commissionata che è il 77 quindi quasi vent'anni prima della tutela normativa della legge regionale statale con la rilevazione delle competenze e delle abitudini linguistiche all'interno della comunità la lingua quindi ancora una volta al centro della questione e sulla stessa linea segnalo anche i molti interessanti lavori di Linda Picco di taglio ancora sociolinguistico condotti dall'interno del CIRF e pubblicati nelle collane dell'editrice universitaria forum faccio un cenno appena perché se no mi tolgono la parola giusto alla frammentazione dell'identità friulana che dovrebbe partire da riflessioni sulle subare culturali della regione e prima per una peculiare identità nell'identità e senza dubbio la carnia dico molto poco anche sulla questione del goriziano potendo rimandare al bel volume curato da Ferruccio Tassin cultura friulana del goriziano pubblicata una ventina di anni fa dal benemerito istituto di storia sociale e religiosa di gorizia davvero illuminante nel volume ad ogni buon conto l'ampio saggio di vittorio peri note sulla formazione dell'identità culturale friulana ma anche interessanti tra interventi di sergio tavano gorizia friuli non friuli italo sante usanio l'idea di friuli nelle lotte politico nazionali nel goriziano e del compianto celso macor friulani di confine la questione dei legami di gorizia con il friuli quella della partenenza del suo territorio friuli in generale più sfumata non ha mancato di appassionare di dividere molti studiosi uomini di cultura ma anche politici che a tale argomento si sono dedicati soprattutto nel secondo dopoguerra al centro della discussione si trova quindi la definizione dei caratteri peculiari di gorizia e del goriziano della particolarità della sua storia e della pluralità delle sue tradizioni culturali del suo distinguersi in quale misura rispetto al resto della regione friulana si rileva insomma che l'identità specifica del goriziano è composita per cui non sarebbe difficile volendo dimostrare con delle forzature una tesi isolare e sottolineare solo certi componenti culturali a discapito di altri dice sante usanio si tratta di un punto divisa senz'altro condivisibile che fornisce una chiave di lettura dell'identità e della pluralità non solo del goriziano ma direi un po' di tutto al friuli il friuli è una terra della storia così ricca e complessa e si presenta a tal punto articolato nelle sue componenti che qualsivoglia semplificazione per una qualsiasi delle sue città o delle sue realtà territoriali appare una inecitabile forzatura così anche per Gorizia forse soprattutto per Gorizia dove apporti tradizioni relazioni costumi diversi si incontrano e si fondono in un modo assolutamente originale sul versante del friuli occidentale segnalo appena al volume di Don Luciano Padovese itinerario culturale di un territorio contributi al dibattito sull'identità del friuli occidentale pubblicato nel 1989 dove ancora una volta come si vede la cultura va a braccetto con l'identità chiudo il mio intervento con un auspicio anche la questione dell'identità friulana come ogni altra manifestazione socioculturale come ogni altro fenomeno ha bisogno di verifica di aggiornamento e il momento della verifica e dell'aggiornamento ci pare sia arrivato se sono reali segnali che provengono dalla nostra società segnali che chiamano alla coesione alla solidarietà alla trasmissione dei valori a riconoscimento al dibattito sull'identità anche nella prospettiva più politica che l'istituto regione deve fare dove pare che i buoni diritti della minoranza nascondano o mettano in secondo piano i diritti non meno buoni della maggioranza le iniziative sull'identità sembrano ora diciamo così spontanee istintive di reazione quasi rispetto ad un problema percepito che è quello della perdita di questa identità molto opportuno sarebbe poter proseguire questa riflessione sull'identità friulana con la forza che ci dà il nostro ateneo il luogo deputato a ragionare per il presente e a sognare per il futuro se ciò sarà se ne avremo la possibilità penso che avremo risposto positivamente anche alla più volte richiamata missione istitutiva dell'università friulana grazie allora noi qua dovremmo ci è stato assegnato vi è stato assegnato un tema buonasera buonasera mi è arrivato dialogo fra identità vissute che è una cosa complicatissima io non so bene da cosa partire visto insomma è un tema talmente largo però io vi chiederei vi chiederei una cortesia se rispetto alle cose che avete sentito c'è qualcosa che vi ha che vi ha colpito particolarmente qualcosa su cui volete intervenire a me pare però che un tratto comune sia stato anche se in chiusura di intervento ma forse è normale perché siamo qua siamo dentro un cantiere dell'università c'è stato questo appello più volte ripreso sul ruolo dell'università che è una cosa alla quale magari noi che stiamo fuori dell'università cioè dico penso per me che non insegno l'università pensiamo pensiamo poco quanto sia un carattere identitario anche la nostra università quindi io se a voi va bene comincerei da questo però naturalmente tutte le suggestioni che vorrete praticare noi le riceveremo poi se ce la facciamo se c'è qualche minuto magari chiediamo al pubblico se vuol porre qualche questione qualche domanda stiamo abbastanza nei tempi siamo come dire un po' stretti ma dovremmo farci a chi comincia è il professor che litiga col tasto per cui tocca a lui così impara beh intanto buonasera poi io da friulano voglio ringraziare il rettore per aver ideato il cantiere il professor Pascolini perché mi pare che sia il capofabbro e poi appunto la professoressa d'Orlando che ha allestito questa officina se non se non erro bene io vorrei dire questo in breve intanto mi trovo perfettamente d'accordo con tutto quello che hanno detto i tre precedenti oratori e ricordo io non pratico ma mi hanno raccontato di un giochino che si fa su internet mi pare sei di Udine se poi ci sono dei puntini cioè sei di Udine se conosci chi era Florian e Venturin faccio per dire sei di appunto Cividale se sai chi è il ponte del diavolo che cos'è il ponte del diavolo e via discorrendo questo per dire che anche a un livello così puramente ludico si sposa luogo e conoscenza cioè non c'è appartenenza a un luogo se non c'è conoscenza questo l'ho sperimentato più volte anche nella mia vita perché imparando lingue straniere per esempio mi sono trovato più a mio agio nei luoghi in cui si parlavano queste lingue e questo è ovvio ora io vorrei partire da quel che disse Pasolini scrisse anzi Pasolini nel 1947 ultimo quaderno dell'Accademiute intitolato Quaderno Romanzo lui conclude il suo saggio con le parole aveva sentito la notizia che la regione era stata riconosciuta il 27 giugno del 1947 e lui scrive il Friuli ora è sul punto di dover scegliere tra l'essere e il dover essere neanche il voler essere il dover essere parlando di me io sono stato costretto quindi a scegliere fra l'essere sono nato friulano al mio paese penso che l'italiano fosse lingua estera non potevo essere altro che friulano naturalmente dopo per essere friulano cosciente ho dovuto farmi una cultura ed è questo uno dei problemi secondo me più difficili perché diventare dico friulano ma posso dire siciliano sloveno quello che volete diventare naturalmente di una entità è abbastanza facile voler poi o dover essere di quella identità cioè acquisire la coscienza è molto più difficile e questo è un primo compito che secondo me dobbiamo porci tutti cioè università regione eccetera perché la diffusione di questa cultura locale non è affatto scontata non è affatto normale o spontanea giusto ieri direttore lei ha pubblicato un mio articolo in cui io evocavo Alessandro Vigevani un grande umanista che pensando all'autonomia ancora nel 45 addirittura prima della fine della guerra auspicava che a sostegno e a rafforzamento dell'autonomia ci fosse quella che lui chiamava l'università ladina è interessante questo quindi orientata allo studio di quei valori di cui si è parlato qui questa sera questo mi pare importante ora perché questo patrimonio culturale che è stato molto ben illustrato diventi per così dire fattore identitario cioè condiviso o almeno noto agli abitanti di questa regione e dovremmo fare tutto il possibile perché questo avvenga secondo me è un compito tipicamente didattico c'è poco da fare se io mi sento molto italiano lo debbo ai miei insegnanti a partire dalla mia maestra elementare che nel 43 mi faceva dei dettati in cui mi incitava a diventare aquilotto d'Italia cioè avviatore per combattere e difendere la patria per esempio e quindi penso che se noi non formiamo non disponiamo di insegnanti che siano capaci di trasformare o di trasmettere il senso della friulanità nel senso colto di questa sera noi non raggiungiamo l'obiettivo cioè diventa un discorso puramente accademico questo è il mio modo di vedere se noi per esempio consideriamo i friulani antropologicamente dobbiamo ricordare che proprio i friulani è un problema questo che proprio i friulani più colti sto parlando di Prospero Antonini per capirci non di contadini del mio paese proprio i più colti i laureati sono stati quelli che sono alla base della perdita di valori di identità del friuli negli ultimi 150 anni faccio due soli esempi all'Antonini dell'Antonini bisogna ricordare che propose ancora prima della annessione del friuli all'Italia l'italianizzazione di tutti i toponimi friulani celebri rimasero cormonsio e gonarsio in luogo di cormons e gonars per fortuna non fu non fu sì tal masson si è salvato e anche vidulis per fortuna non sì ecco e questo non era voglio dire non era attenzione non era il potere centrale lontano il decreto reale che imponeva questo no no era un friulano un friulano come quei friulani che si sono opposti allo statuto normale prima speciale poi nel 1945 e 1947 non erano napoletani o piemontesi o che figurarsi erano di qua se voi andate in via Cosattini la via intitolata a un politico che il 30 ottobre 1947 dopo la votazione della decima norma transitoria che paralizza la regione la mette in frigo senza scadenza e durò 16 anni ecco questo signore socialista ringrazia l'assemblea costituente per aver rimediato a un grosso errore l'onorevole Zuccarini disse ma scusa ma ti hanno fatto del male se concedono lo statuto speciale a una regione lui ringrazia e non considera quindi il danno immenso che ha fatto non dico al Friuli sono d'accordo con Pascolini dico ai cosiddetti proletari che dovevano essere difesi da lui perché la provincia di Udine nel decennio dei 50 ha perso 28.000 abitanti e forse con la gestione dei fondi che sarebbero stati dati alla regione forse non dico che sarebbero stati annullati ma almeno qualcuno di meno senz'altro perché ovviamente questa è la regione di confine non venivano le grandi industrie a investire e naturalmente lo Stato l'imprenditoria di Stato per analoghe ragioni non investiva o cercava di non investire e però la regione avrebbe potuto investire perché era suo compito ecco se noi vogliamo considerare ancora il bovarismo che è atavico dei friulani e degli udinesi in particolare ma voi vi rendete conto dello tsunami toponomastico che ha coperto la città lasciamo stare poi il resto perché per imitazione c'è via Vittorio Emanuele terzo a Basaldella è una strada dove io andrei solo a dar da mangiare alle galline ma comunque questo è un altro discorso lo tsunami toponomastico della città di Udine Garibaldi Cavour l'hanno fatto dappertutto ma noi siamo arrivati dottore noi siamo arrivati a intitolare per esempio qualcosa di risorgimentale anche in maniera criptica per esempio io non so se quelli che stanno in viale il 23 marzo sanno che cos'è e che cosa vuol dire il 23 marzo ecco è una data risorgimentale comunque Garibaldi Cavour e Mazzini hanno coperto la plazza dei Barnabits molto più interessante secondo me di Garibaldi poi hanno coperto ovviamente il Borg di Santa Lucia interessantissimo perché Santa Lucia dopo domani porta i doni e hanno coperto la contrada del Fieno qui siamo naturalmente in via Manin che sarebbe il Borg di San Bartolomeo e qui siamo in via della Prefettura che sarebbe la contrada dei Forse dei Forni quindi hanno distrutto un intero tappeto per dimostrarsi non italiani perché secondo me si è italiani non in questa maniera rispettando le leggi lavorando e pagando le imposte questo è il diritto di cittadinanza secondo me no hanno distrutto tutto un patrimonio per dimostrarsi non italiani più italiani degli altri e questo è il colmo noi veniamo da questo e siamo ancora condizionati da questo se voi leggete gli atti parlamentari e le polemiche giornalistiche del 1945-1947 vedete addirittura uomini di sinistra del Friuli che lottano contro la regione con argomenti di destra è una cosa fantastica per non essere considerati meno patrioti di quegli altri bene comunque io volevo quindi lanciare questi appelli cerchiamo di se è possibile di passare a una diversa mentalità di infondere una diversa mentalità attraverso la scolarizzazione se possibile anche il buon esempio per esempio l'altro giorno sono passato per Orgnano e ho visto una tabella via Carlos Gorlon o finalmente dico non solo Alessandro Manzoni ma qualcun altro tanto per dire o Giacomo Leopardi via Carlos Gorlon l'ho telefonato la vedo era molto contenta ora noi sappiamo che qui questa è un'assemblea nobile di cervelli illustri pieni di cultura però non dobbiamo dimenticare che il popolo come ben sanno quelli che manipolano il popolo hanno bisogno di simboli hanno bisogno di slogan cioè di cose abbastanza quindi mi va benissimo che su un certo ambiente ci sia scritto in friulano Universitat dal Friul così almeno si dice beh l'università non disdegna proprio la lingua friulana e l'università è importante dopo vedremo quanto è dal Friul ma non importa intanto si scrive no? quindi la fiesta de patria dal Friul secondo me è da sostenere istituzionalizzata dalla regione oltretutto nel 2015 è molto importante perché ho visto molta gente che partecipa e si domanda che cos'è perché eccetera quindi mi sembra importante però poi spetta agli enti agli enti nobili agli enti importanti come l'università ma anche come la regione ovviamente di applicare lo statuto tirandolo al massimo che cosa intendo io tirandolo al massimo io intendo sfruttando tutte le possibilità giuridiche che lo statuto ci dà proprio oggi mi sono riletto l'articolo 4 e ho visto che ci sono molti margini come si suol dire di miglioramento e anche l'articolo 50 è a disposizione se si vuole fare dei programmi extra l'articolo 50 che è stato molto poco usato e qualcuno potrebbe dire come vai a chiedere soldi extra in questo momento beh se è vero quel che ho letto che i friulani con quello che hanno pagato e continuano a pagare sulla benzina hanno già restituito allo Stato il contributo del 1976 per la ricostruzione quindi stiamo pagando in più beh si potrà anche chiedere qualcosa di nuovo per quel che mi riguarda e dopo io direi potrei dire mi è venuta un'idea naturalmente non ho fatto conti sulle difficoltà giuridiche e sui costi ma la passo a una giurista noi abbiamo dobbiamo fare in modo di essere veramente speciali il Friuli è una regione specialissima è stata una grande cosa quella di aver ottenuto la specialità che va difesa e applicata a ogni costo secondo me ma accentuando le differenze cioè quelle che ci rendono speciali noi siamo meno qualche comune del Vicentino che sappia io e meno la provincia di Trento siamo l'unica regione in cui sopravvive il catastro tavolare di cui si sente parlare sempre molto bene anche in Veneto sì c'è qualcosa in Veneto addirittura ci sono due comuni isolati che devono ricorrere a Trento saltando altri comuni per questioni catastali comunque io ho constatato che ci sono delle uti tanto per dire uti quella di Aquileia e Palmanova in cui ci sono metà comuni che hanno il sistema tavolare e metà che hanno il sistema chiamiamolo italiano ordinario eccetera allora uno degli obiettivi potrebbe essere per esempio quello di estendere il sistema tavolare a tutta la regione perché tutti dicono che il sistema tavolare è molto più vantaggioso da vari punti di vista del sistema tradizionale queste sono le mie considerazioni io direi che quindi dobbiamo cercare di essere non solo consci ma anche attenti all'autonomia e io magari sognando faccio questo auspicio che l'università sia il centro di produzione di progetti di idee agganciate all'autonomia e che la regione naturalmente sia il luogo in cui questi progetti ritenuti politicamente validi trovino la normativa e l'attuazione grazie grazie senta professore una cosa velocissima domanda rapida risposta rapida questa questione dell'italianizzazione per così dire fa parte anche di un certo periodo storico il mio giornale nasce nel 46 e si chiama Veneto per le stesse ragioni perché era un un tentativo di assimilazione del fronte orientale all'Italia per evitare che andasse verso il confine jugoslavo la domanda che volevo farle però è questo ci sono dei cicli anche linguistici e culturali quindi in un certo momento storico i friulani hanno voluto sembrare più italiani che friulani le volevo chiedere adesso in questa fase storica lei ha la percezione che le nuove generazioni siano interessate a recuperare il tratto della loro friulanità perché noi possiamo anche insegnare il friulano alle scuole elementari cosa che peraltro si fa poco e malamente malamente in senso come quantità però bisogna vedere se la percezione della società va in quella direzione lì cioè se si sta ricreando un interesse verso la propria dimensione culturale linguistica territoriale oppure no se no noi possiamo anche insegnare il friulano ma se i ragazzi non lo vogliono parlare praticare è una battaglia persa che opinione ha rispetto a questa sensibilità le chiedo una domanda una risposta telegrafica se possibile posso dire che sono pessimista basta così no forse forse è un momento beh in generale c'è un c'è uno scollamento generale in Europa io frequento casualmente molte regioni diverse regioni di confine e quindi conosco per esempio gli sloveni mi dicono che i giovani non vogliono più usare il caso duale nei verbi gli anziani dicono ma se tu usi il duale si capisce se stai raccontando qualcosa che è accaduto tra te e un'altra persona cioè in due oppure usi un'altra forma verbale e capisco che beh dal senso della frase capirai rispondono i giovani sloveni ecco ho citato apposta i giovani sloveni non i giovani friulani i giovani friulani eccetera ma li vedo li vedo scollati non solo dai valori diciamo così regionali ma anche dai valori nazionali ormai cioè sono molto più sospesi nel vuoto ecco intendo questo d'altra parte non è vietato tentare di rimediare il rimediabile aggiungo una considerazione se pensate l'operazione che ha fatto il Veneto senza l'autonomia con questo presidente anche attraverso il referendum ha invece instillato nella sua comunità un senso di veneticità per così dire che era andato era andato perduto era andato perduto pur senza avere l'autonomia sono d'accordo però se io vado a vedere i precedenti cioè gli ultimi anni della regione in generale gli ultimi anni in particolare vedo che questa friulanità siamo nati direttore in cui bisognava essere tutti friulo giuliani posso dimostrare tutto quello che dico e quindi solo il poter dire sono friulano e basta e non anche giuliano è stata una conquista in questa regione ma comunque finiamola qua va bene grazie grazie professor Ellero Antonio Baldino prego buonasera a tutti io sono Tonino Baldino sono di Alghero sono stato amministratore della mia città per lungo tempo sono stato sindaco a cavallo degli anni 2000 adesso mi occupo esclusivamente di promozione culturale sono presidente del centro di studi e politica Giuseppe Toniolo appunto di Alghero che ha un rapporto privilegiato con l'università cattolica il nostro obiettivo prioritario è quello di agire per la promozione del territorio facendo tesoro appunto delle peculiarità culturali economiche sociali del luogo stesso quindi c'è diciamo una affinità di temi con quello che stasera stiamo stiamo appunto affrontando ringrazio dell'invito io diciamo pongo già un problema noi teniamo all'autonomia fra l'altro Alghero è una minoranza linguistica appunto all'interno della minoranza linguistica della Sardegna quindi noi abbiamo rapporti con la Catalogna facciamo la bandiera è uguale identica a quella della Catalogna sono il quadro barre questo è un distintivo che mi ha regalato il presidente del consiglio dell'assemblea regionale della Generalità di Catalogna per dire questo comunque che sono testimonianze di esperienze che noi viviamo nella nostra assolutamente modesta comunità perché Alghero è una città di 44.000 abitanti a parlare l'algherese è una minoranza possiamo essere intorno al 15% insomma però noi teniamo teniamo a che questo valore sopravviva per cui organizziamo corsi come associazioni di volontariato ma anche con collaborazioni attraverso le istituzioni corsi per la istituzione della lingua algherese nelle scuole fra i ragazzi delle scuole materne delle scuole elementari e addirittura questa esperienza un po' la facciamo anche in collaborazione con alcuni comuni della Catalogna cioè concorrono anche loro finanziariamente ai costi che sosteniamo quindi c'è questo sono rapporti che a periodi hanno dei picchi a periodi hanno dei cali ma sono cose comprensibili dal punto di vista fisiologico assolutamente però c'è questo interesse quindi diciamo che tutti noi anche degli interventi che mi hanno preceduto teniamo teniamo ad essere ad avere il senso dell'autonomia quindi questo senso di appartenenza perché senza rendercene conto noi spontaneamente sentendoci questo senso di appartenenza in noi scatta una forza eccezionale quindi c'è un fatto psicologico ma è un fatto essenziale però non è soltanto virtuale in noi c'è una forza incredibile io vi devo dire per esempio che se io sono qui è perché noi da Ilghiera abbiamo intrattenuto rapporti con l'Anci Friuli Venezia Giulia nella persona del presidente qui Mario Pezzetta e questi rapporti che noi abbiamo promosso sono sempre generati da questo volerci confrontare sulle tematiche dell'autonomia allora io appongo già un problema e si diceva prima della così degli effetti che noi abbiamo nel mercato globalizzato punto di domanda primo che cosa ne sarà delle nostre istituzioni davanti alle insidie e alle sfide chiamiamo le sfide in generale della economia che noi viviamo in ambito internazionale in ambito globale è un è un fattore questo che potrebbe anche annientare le nostre autonomie e ne vale la pena punto di domanda Giuseppe rettoniolo diceva la politica è la scienza dei fini l'economia è la scienza dei mezzi quindi questa distinzione tra fini e mezzi va oggi mantenuta viva in piedi è importante anche perché anche perché se non teniamo chiaro questo concetto deve essere un concetto addirittura acquisito nella nostra cultura soggettiva personale qui noi rischiamo forse che lo stesso valore della democrazia che vogliamo vivere nelle istituzioni venga meno perché se noi oggi sentiamo in un mondo sordo quasi appiattito a cui stiamo assistendo se noi oggi sentiamo forse più di altri questo senso di appartenenza e quindi anche il senso della partecipazione alle scelte democratiche nelle istituzioni è grazie appunto alla idea che abbiamo di autonomia della nostra realtà locale della nostra comunità se ci viene meno qui c'è il rischio che non saremo noi più i protagonisti del nostro futuro anche per le nostre comunità locali per le nostre realtà quindi diciamo che da questo punto di vista il cantiere ha molto da fare e qui la professoressa D'Arlando appunto ha materia essenziale forte importante perché come oggi noi stiamo vivendo le istituzioni sappiamo benissimo che stiamo semplicemente subendo noi siamo chiamati siamo chiamati a esprimere liberamente un nostro orientamento nella fase elettorale delle consultazioni elettorali e questo orientamento addirittura è già penalizzato in partenza perché ci presentano dei pacchetti il successivo la successiva opportunità è la scadenza di questo mandato la cosa non è che ci deve lasciare tanto tranquilli io chiudo qua io ringrazio intanto tutti i relatori il direttore del messaggero veneto la fondazione Friuli in persona del suo presidente e il pubblico che ha pazientato con noi fino a quest'ora e gli interventi che ci sono stati io penso che noi membri dell'officina dobbiamo davvero essere grati a queste diverse prospettive che ci sono state porte e sulle quali adesso a porte chiuse noi cominceremo già a riflettere a fare il nostro lavoro di elaborazione il prossimo incontro il secondo seminario che orientativamente faremo tra la fine di gennaio e i primi di febbraio vedrà il confronto tra l'antropologia l'economia e il diritto che sono un po' le tre discipline che oggi mancavano devo dire che i tre interventi per quanto abbastanza diversi anche come stile a me hanno acceso già molte lampadine in testa ecco adesso non non condivido con voi queste riflessioni perché vi terrei qui credo un'altra ora buona e non è direi il caso però complessivamente posso dire che sono molto contenta dell'esito perché esattamente è quello che noi dell'officina cercavamo ecco penso di riprendere anche il pensiero dei miei colleghi penso che lo abbiamo trovato ecco grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti